A Monte Rosso se si viene pizzicati ad acquistare da un venditore abusivo scattano sanzioni anche per il cliente. Intanto le forze dell'ordine, dalle polizie locali alla guardia di finanza, sin dall'inizio della bella stagione stanno battendo palmo a palmo i litorali spezzini per contrastare un fenomeno pericoloso quanto diffuso, l'abusivismo commerciale. Ma quando si è in spiaggia non è soltanto l'acquisto di un oggetto a creare danni, talvolta si può incappare anche in situazioni rischiose per la salute. Lo sanno bene in Confartigianato che a margine della campagna, se compri sei responsabile anche tu, rinnovano l'appello per tutelare le attività artigiane sane. Si può dire che in parte il segreto sta anche nel sensibilizzare la gente che non si deve prestare a queste situazioni? È purtroppo la verità, le persone che favoriscono questo genere di abusivismo sono le prime che devono responsabilizzarsi e che devono andare contro questa operazione di abusivismo. Quindi combattono anche perché, forse non tutti lo sanno, ma sono sanzionabili con una sanzione fino a 200 euro. Non solo, poi c'è anche la responsabilità sociale, attività che non sono assolutamente verificabili dal punto di vista fiscale perché la prima evasione che avviene è l'IVA immediatamente, il 22% viene evaso non rilasciando nessuna ricevuta. Poi viene evasa l'IRAP, non hanno le normative dal punto di vista igienico-sanitario. Uno dei settori nei quali si risente maggiormente della concorrenza sleale non preparata con massaggi e altre prestazioni al nero sotto l'ombrellone. Parlo dei massaggiatori sulle spiagge che offrono massaggi a basso costo con prodotti a volte dannosi per la pelle perché la pelle è un nostro organo che dobbiamo comunque tutelare, invece loro usano prodotti che possono creare allergie, che possono essere dannose. Per quanto riguarda il mio settore noi ci tuteliamo lavorando professionalmente, facendo corsi professionali perché noi comunque seguiamo dei corsi professionali per poter fare il nostro lavoro, seguiamo anatomia e seguiamo normative igienico-sanitarie per non danneggiare il nostro cliente. A livello nazionale quanto danno si crea allo Stato? A livello nazionale sommando sia questo abusivismo che quello, non dimentichiamoci, dei prodotti contraffati, si parla di svariati miliardi di euro a livello nazionale. Questa campagna anti-contraffazioni, anti-abusivismo che abbiamo lanciato vedrà la fissione di manifesti in tutto il litorale, in tutti gli stabilimenti balneari ed è stata portata avanti con il patrocinio della Guardia di Finanza Provinciale.